80 giorni di biancani sindaco fra opere realizzate l'annuncio di un nuovo parcheggio multipiano 250 caditoie ripulite ogni settimana Pesaro prepara il piano anti allagamento Coglie al metauro per l'inchiesta del latte adulterato scattano 5 misure interdittive Alluvione 2022 lo stato di emergenza viene prorogato di altri 12 mesi In tavola si apparecchiano già i sapori d'autunno ripartono infatti i weekend gastronomici Ben ritrovati a tutto il pubblico di Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale Oggi è martedì 3 settembre, apriamo questa edizione con il primo mini bilancio dell'avventura amministrativa dell'appena eletto sindaco Andrea Biancani Oggi il primo cittadino ha fatto infatti il punto su quanto realizzato in questi primi 80 giorni anticipando anche alcuni ambiziosi progetti futuri fra cultura, turismo e mobilità Partiamo così Ha scelto Rocca Costanza come luogo riaperto, simbolo di questo suo iniziale scorcio di mandato per tracciare un primo mini bilancio amministrativo alla presenza della sua squadra di governo fra assessori, aspes e municipio di Monte Ciccardo Andrea Biancani apre il mese di settembre analizzando i suoi primi 80 giorni da sindaco ed esaminando quanto lavoro sia già stato messo a terra dal rafforzamento di Pesero Capitale della Cultura all'accelerata sulle manutenzioni dai cantieri in corso a quelli in programma Abbiamo messo in piedi innanzitutto, abbiamo cercato di rafforzare Pesero Capitale Italiano della Cultura andando ad implementare tutti quelli che sono gli spazi culturali cioè mettere a disposizione tutti gli spazi culturali che abbiamo in città L'altra cosa importante, stiamo per definire con la famiglia Vangi l'acquisizione di tutto il patrimonio che ci ha messo a disposizione Entro qualche settimana andremo anche a definire e a dire dove verrà messo tutto questo patrimonio L'obiettivo è riuscire anche a renderlo visibile sin da subito Dall'altra parte sono stati partiti tutti i cantieri legati agli spazi della cultura legati agli spazi dello sport, alle case popolari investimenti importanti per la manutenzione ricordo che abbiamo messo oltre 1.200.000 euro per la manutenzione per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, degli asili, degli impianti sportivi per la manutenzione del territorio, quindi quelli che sono i fossi Abbiamo cercato di portare avanti, usciremo con un bando legato anche a un concorso di progettazione di idee per quanto riguarda il nuovo Viale Trieste Stiamo ragionando anche per implementare ulteriormente quelli che sono i mosaici presenti in città Stiamo rivedendo un po' quello che è il modello legato alle politiche educative per cercare di dare il più possibile risposta alle famiglie che ancora in particolar modo per i nidi sono in attesa, con circa 140 famiglie in attesa C'è poi un focus di priorità future che dal punto di vista turistico punta a rivedere la conformazione di Viale Trieste attraverso un prossimo concorso pubblico dal punto di vista culturale si scommette su un ambizioso trasferimento dei mosaici del Duomo nel Museo Diocesano, da quello della mobilità si pensa ad una rivoluzione sul piano della sosta con nuovi parcheggi in struttura Abbiamo presentato oggi anche la volontà di realizzare dei nuovi parcheggi in struttura l'unico parcheggio in struttura oggi a Pesaro veramente realizzato è il parcheggio di Curvone risale ormai molti anni fa abbiamo chiesto a Pesaro Parcheggi di fare uno studio sia sull'area in Viale Trieste sull'area del San De Cenzio, sull'area fuori della stazione del treno e anche davanti alla caserma perché l'obiettivo è togliere l'auto dalla strada, disincentivare l'uso dell'auto soprattutto per le persone che vivono vicino al centro quindi anche con una politica tariffaria nuova e soprattutto anche andando a rivedere e a rimodulare quello che è il sistema delle navette sia invernali che estive E come annunciato da Andrea Biancani nella conferenza stampa fra i progetti futuri c'è anche quello di un rinnovato Viale Trieste sia dal punto di vista degli arredi urbani sia di aree pedonali stabili anche in periodo invernale Intanto questa settimana è cominciata con lo smantellamento dell'assetto della pedonalizzazione estiva di Viale Trieste Ora i veicoli possono tornare a transitare sul lungomare pesarese ma solo per alcuni giorni visto che dal 10 al 12 settembre il Viale ospiterà la tradizionale fiera di San Nicola Come si può vedere da queste immagini anche oggi c'è stato uno smantellamento degli arredi estivi che stanno liberando le strade lasciando spazio agli avvisi di divieto di sosta in vista della fiera e quelli di imminente disinfestazione dalle zanzare tigre Le piogge di ieri hanno fatto riaffiorare il cronico problema dei troppi tombini e caditoie ostruite a Pesaro che chiaramente agevolano allagamenti alle prime precipitazioni Un tema che è stato oggetto di tante segnalazioni a Rossini TV e che ora sarà affrontato con una manutenzione programmata e strutturata 250 caditoie da pulire e disostruire ogni settimana quartiere per quartiere secondo un ordine di priorità Il comune di Pesaro decide per un giro di vite a contrasto dei facili allagamenti alle prime piogge figli di una manutenzione non adeguata e lancia un nuovo piano di pulizia dei tombini presenti sul suolo pubblico Io ho chiesto a Marche Multiservizi di mandarci ogni settimana, ogni giovedì un report di dove saranno, o meglio un programma, di dove saranno fatte le pulizie della settimana successiva in maniera tale da poterlo comunicare ai cittadini Biancani precisa che non sarà un intervento estemporaneo ma una scelta programmatica destinata a durare negli anni a venire organizzata di concerto con Marche Multiservizi per intervenire anche su tubature ostruite Ogni giovedì voglio un report insieme all'assessore Emilia della Dora e ogni fine settimana faremo un comune di recato stampa per avvisare i cittadini quindi le varie comunità di quelle che saranno le strade interessate dalla pulizia del caritoio Ovviamente chiediamo anche una maggiore sensibilità da parte dei cittadini nel senso che nel momento in cui sanno che la loro strada è interessata se evitano di mettere comunque la macchina ovviamente riusciremo a fare un lavoro migliore Ovviamente saranno previsti i cartelli necessari qualora ci sono tante le macchine che sono previste in una strada in una determinata fascia oraria Il calendario delle pulizie sarà divulgato a giorni e intanto il comune si impegna all'intercettazione di risorse utili ad un'operazione che dovrà gioco forza rivedere alcune voci delle bilancio dell'amministrazione Lasciamo Pesaro e torniamo ad occuparci di uno dei casi di cronaca giudiziaria più discusso nell'ultimo anno Quello dei sospetti prodotti di latte adulterato usciti dallo stabilimento Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro La procura del Tribunale di Pesaro ha delegato ai carabinieri NAS di Ancona di notificare 5 misure cautelari personali interdittive che vietano di esercitare attività professionali inerenti al settore lattiero caseario Il provvedimento è a carico di 5 dipendenti al vertice dello stabilimento Fattorie Marchigiane che all'epoca dei fatti in contestazione avevano un ruolo di responsabilità nella filiera di controllo della produzione Ricordiamo che le indagini iniziarono dopo un'ispezione igienico-sanitaria a fine 2023 dalla quale emersero elementi a carico dei 5 dipendenti ritenuti responsabili di numerose condotte di adulterazione di sostanze alimentari È stato prorogato di altri 12 mesi lo stato di emergenza per l'alluvione che nel settembre 2022 colpì le province di Pesaro Urbino La Regione Marchi ha infatti annunciato come il Parlamento abbia comunicato che lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili dalla legislazione vigente Secondo il Governatore Acquaroli la proroga consentirà di proseguire nelle opere di pulizia e manutenzione straordinaria dei fiumi nel rimborso degli interventi effettuati dagli enti locali nella ricostruzione di infrastrutture danneggiate e nell'erogazione dei ristori a famiglie e imprese Sarà il nuovo biglietto da visita alla provincia di Pesaro e Urbino per chi proviene da sud Parliamo esattamente del progetto del nuovo ponte ciclopedonale sul Cesano fra i territori comunali Marotta-Mondolfo e Senigallia che questa mattina ha visto la prima posa dei Conci ovvero delle strutture orizzontali che sosterranno quello che sarà il viadotto ciclopedonale più lungo delle Marche nonché una delle infrastrutture più imponenti della ciclovia adriatica presenti questa mattina alla prima posa l'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli assieme ai sindaci di Mondolfo e Senigallia Nicola Barbieri e Massimo Olivetti Ed ora cambiamo argomento ieri nel nostro telegiornale vi abbiamo mostrato alcuni degli eventi celebrativi dell'ottantesimo anniversario della liberazione di Pesaro dal nazifascismo nel prossimo servizio questa sera ascoltiamo le preziose testimonianze degli ultimi reduci di quel tragico periodo bellico Pesaro ha commemorato l'ottantesimo anniversario della sua liberazione anche attraverso la voce degli ultimi reduci di quel tragico periodo bellico confluito nella svolta del 2 settembre fra questi Gianni Rulli che a 97 anni rimane uno degli ultimi depositari di quella cruciale pagina di storia cittadina troppo non c'è più nessuno che vado in piazza e dice ma non c'è più, è morto io non ho più un amico né al porto che eravamo così tutti mi volevano bene ancora mi vogliono bene ma non c'è più nessuno sono morti tutti ma sono morti ma io sono stato sempre miracolato non si può dire di no che ti scoppia una bomba qui nelle ginocchia muoiono tutti quelli vicini e io no una vita lunga dopo una gioventù percorsa a costante contatto con la morte come quando da staffetta partigiana Rulli nascondeva armi lungo il foglia e venne scoperto dopo aver spostato una mitragliatrice da una palazzina di via dell'Acquedotto per ispezionare la zona naturalmente hanno visto che sta mitragliatrice non era al posto suo sono venuti giù con la camionetta io non ho fatto in tempo a scappare via al terzo piano perché c'è trami di scale madonna sono andato in fondo bagliavano dai dai come vuoi dire quindi non scappa lui è rimasto lì dentro o ti fai prendere o ti butti te dalla finestra perché tanto loro ti ammazzano a proposito di finestra cosa ho fatto? un attimo lì perché è questione di secondi perché già loro erano ai piedi ho aperto la finestra mi sono messo fuori sui davanzari c'era così di spazio mi sono messo in piedi così ho richiuso le persiane e sono rimasto così loro capiranno hanno incominciato a ribaltare tutte le brande hanno avuto dire tanto questo qui questo è qui dentro non scappa di sicuro insomma hanno fatto un disastro fortunatamente io qui davanti a lei non hanno aperto la finestra io ho pensato eccoli eccoli perché bastava con un ditino perché avevo lo spazio non c'era forse di stare così erano che stanchi insomma si sono stufati si sono andati via capirà me un sospirone Reduci e figli di Reduci come Anna Maria Anders ambasciatrice della Polonia in Italia e figlia del generale Vladislav Anders del secondo corpo d'armata polacco protagonista della liberazione della città una bellissima bellissima ceremonia abbiamo fatto questi vari monumenti soprattutto quello che è dietro di me con le foto di questa gente giovane molto molto emozionante grazie vorrei ringraziare gli italiani che si ricordano sempre dei polacchi sempre tutte le ceremonie si parla in polacchi e devo dire che anche i polacchi si ricordano sempre italiani abbiamo veramente tanti legami è un'occasione per ricordare il sacrificio di centinaia se non migliaia di persone di giovani non solamente italiani ma di persone venute da mezzo mondo appunto per liberare e per liberarci è arrivato a scadenza il bando relativo al fondo anticrisi a sostegno del pagamento dell'Atari per le famiglie pesaresi a presentare domanda sono stati 1.367 nuclei familiari che dovevano avere il requisito cardine di un'isee sotto i 16.000 euro per ottenere gli esoneri, dai e tributi per i quali il comune ha stanziato 300.000 euro di fondo anticrisi siamo appena arrivati al 3 settembre ma comincia già la programmazione degli eventi autunnali quanto meno a tavola e esattamente con Confcommercio che oggi ha presentato il ricco programma della 41esima edizione dei weekend gastronomici Il 15 settembre parte la 41esima edizione autunnale dei weekend gastronomici terminerà il 1 di dicembre 44 ristoranti di 30 località della provincia che partecipano alla iniziativa che è la più longeva della regione Marche che ha avuto un grande merito storico quello di fare crescere la cultura gastronomica nell'entroterra della nostra provincia perché lo ricordo i weekend gastronomici interessano solo l'entroterra della provincia di Pesurubino e anche qualche ristorante di comuni che erano in provincia di Pesurubino e oggi sono in provincia di Rimini quindi ha fatto crescere la cultura gastronomica ma ha avuto il grande merito di far crescere di far conoscere località borghi, paesi del nostro entroterra che altrimenti erano veramente ai margini dell'interesse dei turisti degli stessi marchigiani quindi grazie ai weekend gastronomici abbiamo fatto conoscere i ristoranti crescere la qualità della gastronomia e movimentare dal punto di vista turistico le nostre località e per questo abbiamo abbinato anche in questa edizione i weekend gastronomici all'itinerario della bellezza all'interno della guida quindi troviamo i riferimenti una pagina per ogni comune i 25 comuni che quest'anno partecipano all'itinerario della bellezza ma questa iniziativa prima di tutto è in fiore all'occhiale della Concommercio che ci tiene tantissimo non avremmo mai pensato che quando si è cominciato questo itinerario avrebbe avuto un successo tale e avrebbe così tanta vita certamente è stato indovinato una cosa che il gustare un menù buono a prezzo modico ha inciso a far muovere tante tante persone e questi ristoranti hanno capito che era la formula giusta 26-29 euro limite massimo con due piatti a base di tartufo quindi la dice lunga con dei menù straordinari di grande qualità menù molto ricchi il cui prezzo si giustifica solo per la promozione che noi facciamo e quindi gli 11-12 mila cittadini che prenotano nei ristoranti in ogni edizione autunnale sono la dimostrazione della bontà dell'iniziativa e del fatto che l'abbinamento prezzo promozionale e certezza per il consumatore perché il consumatore sa esattamente cosa mangia cosa beve anche il costo dell'acqua o del caffè sono la formula vincente di questa iniziativa e restando in tema di sapori d'autunno è andata in scena questo fine settimana una delle sagre più longeve delle marche quella del polentone alla carbonara che a Piobico si tramanda da ben in 530 anni un evento ultra secolare che anche quest'anno ha visto tantissimi visitatori radunarsi alle pendici del Monte Nerone per assaporare il piatto di una tradizione antichissima fra stand gastronomici e spettacoli allestiti dalla Proloco di Piobico potrete rivedere tutto nello speciale realizzato da Rossini TV che andrà in onda venerdì 6 settembre alle 21.40 e nell'anno della Capitale della Cultura 2024 anche il prestigioso Festival GAD il Festival d'Arte Drammatica è in procinto di preparare un'edizione davvero speciale anche quest'anno tantissime le compagnie presenti alla selezione quasi 100 che hanno coperto tutto lo stivale quindi dall'estremo nord all'estremo sud ancora una volta testimoniare che il Festival di Pesaro è veramente un festival di riferimento nel movimento ampissimo del teatro non professionistico la selezione grazie anche al contributo prezioso di Giuseppe Esposito che con me ha selezionato un gruppo di 100 ottimi lavori all'interno del quale abbiamo scelto gli 8 finalisti iniziamo con uno spettacolo una compagnia che ritorna a Pesaro un gruppo di Fasano Brindisi il gruppo attività teatrali Peppino Mancini che porta in scena un monologo molto intenso da qualche anno il Festival ha aperto anche ai generi diversi quindi monologhi assieme a spettacoli collettivi il titolo è Stasera Ovulo per la regia di Mimmo Capozzi e l'autore è Carlotta Clerici proseguiamo con il teatro di Sabbia di Vicenza con lo spettacolo Killer per la regia di Eros Emanuele Papadakis e il testo è di Aldo Nicolai proseguiamo con il gruppo Amici del teatro di Roncade Treviso con la commedia Se devi dire una bugia di La Grossa per la regia di Alberto Moscatelli e il testo è di Ray Cunei Associazione Culturale Artemisia di Bari con un grande classico del teatro Riccardo Terzo la regia di Ernesto Marletta e il testo ovviamente di William Shakespeare Compagnia Filodrammatica Orense di Vimercate il testo è Duello il gioco dell'assassino per la regia di Pietro Baio e l'autore Anthony Sheffer proseguiamo con APS Tutti Insieme di Corridonia a Macerata con lo spettacolo Pulcinella Sciamana la regia di Francesco Facciolli che è anche autore del testo proseguiamo con La Graticcia di Verona con il testo Il teatro comico la regia di Giovanni Witt l'autore ovviamente Carlo Goldoni e concludiamo ultimo spettacolo in concorso Giardini dell'arte APS di Firenze con un altro classico Uomini e topi la regia Marco Lombardi il testo di John Steinbeck quindi si trovano assieme commedie testi classici monologhi testi anche in lingua dialettale per completare un cartellone che assieme ai numerosi spettacoli fuori concorso farà un festival degno dell'anno capitale un festival molto intenso partiremo il 14 ottobre per concludere il 27 ottobre tutti i giorni spettacoli qualche giorno anche due eventi per un festival molto intenso molto faticoso ma che celebrerà al meglio l'anno di capitale della cultura continuiamo a parlare di eventi in questo caso di eventi benefici perché le racchette di paddol tornano a sfidarsi in favore dello Iopra è infatti tutto pronto per la quarta edizione del torneo che supporta le attività dell'istituto oncologico pesarese si svolge il 7 e l'8 di settembre allo Smash a Baia Flaminia ed è il quarto anno iniziato con noi Iopra grazie allo Smash che ci ha chiamato dalla prima volta e siamo tuttora presenti fanno tutto è logico per beneficenza in maniera che ci arrivano dei fondi per mandare avanti la nostra associazione che ha molte spese molti costi ed è completamente pesarese l'organizzazione è la medesima dell'anno scorso faremo sia sabato che domenica dei gironi composti da squadre da due uomini e due donne aperto a tutti diciamo amatori chiunque l'importante è portare gente a fare beneficenza allo Iopra nella giornata di sabato sia nel circolo di Via Toscana che nel circolo di Baia Flaminia faremo tutti i gironi e eliminazione poi dopo nella giornata di domenica ci saranno le semifinali e le finali in Baia Flaminia con le varie premiazioni e tutto e cerchiamo di finire per l'ora di pranzo ci si può iscrivere ancora fino a giovedì più siamo e meglio è logicamente fin dall'inizio quattro anni fa abbiamo cercato di dare il nostro contributo abbiamo messo insieme anche le forze di altri club della provincia anche quest'anno ci sarà oltre Lions Club di Gabice ci sarà anche Lions Club della Rover di Pesaro e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo perché proprio nella mission nello spirito della nostra associazione è quella di esserci di essere presenti quando si può per aiutare i bisogni della comunità e in questo caso parliamo veramente di un tema di straordinaria importanza a cui noi diamo tutta la nostra disponibilità L'OIOPRA è un'associazione nata a Pesaro nel 1987 e l'aveva fondata la dottoressa professoressa Antoniello in memoria Carlo Antoniello in memoria del marito Raffaele che era di ciuduto di cancro quindi da allora noi siamo andati sempre avanti con tante difficoltà perché anche il momento del covid ci ha veramente esteso però siamo in piedi e con difficoltà che ci vengono portate lo devo sottolineare soprattutto anche dalla sanità perché ci ha caricato e ci sta caricando di più pazienti e i fondi sono sempre meno quindi noi rimborso spese al nostro personale che è numeroso dobbiamo darlo e quindi cerchiamo alternative ecco tipo il paddolo e concludiamo il nostro telegiornale di questa sera con lo sport e con l'ottimo debutto casalingo della Vispesaro che ieri sera al Benelli ha battuto 3 a 0 l'Arezzo con una prestazione superlativa che ha riscattato l'infelice esordio della trasferta di Sassari Vis avanti nel primo tempo con la rete al 29esimo di Peixoto bravo a capitalizzare una caparbia azione di Cannavò e che raddoppia al 34esimo con Nicastro su rigore nel finale di partita la ciliegina sulla torta con la rete di Ceccacci all'87esimo e questa sera continuiamo a parlare di sport ma soprattutto di attività fisica di nuove attività che aprono nel territorio allora tutti collegati questa sera alle 21.30 per vedere la nuova palestra che è sorta proprio nel centro storico di Pesaro Zongo Fitness Club noi c'eravamo con le nostre telecamere chiaramente e ve la racconteremo al meglio mentre io vi aspetto domani con il cosueto appuntamento della rassegna stampa vi ricordo che potrete vedere la nostra rassegna anche scaricando la nostra applicazione che è gratuita quindi comodamente attraverso il vostro cellulare ed ora vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni grazie a tutti voi e buona serata